Enid! Chiunque tu sia fatti vedere. Prova a fare qualcosa e ti gambizzo. Sorpresa! Sorpresa! Buon compleanno a te! Buon compleanno a te! Buon compleanno, mercoledì! Buon compleanno a te! Immaginavo che fosse opera tua. Quale parte della frase nessuna festa fino alla morte non ti è chiara? Il mio cake designer era molto ispirato. Il palloncino rosa è il mio tocco personale. Esprimi un desiderio. È latino. Pioverà fuoco quando sorgerò. Questo non è un vero desiderio, però. La frase scritta col fuoco sul prato della scuola non può essere una coincidenza. Aspetta. Significa che non mangeremo la torta. Crackstone sta arrivando. Crackstone sta arrivando. Goody, tu sei il corvo della mia stirpe. Mercoledì. So che puoi aiutarmi a controllare i miei poteri. Non si controlla un fiume impetuoso. Impetuoso. Devi imparare a navigarlo senza annegare. Il tempo non è dalla nostra parte. Per fermare Crackstone, questo posto devi cercare. Parli sempre per enigmi? Cerchi sempre risposte facili? Il cammino di un corvo è sempre solitario. Si è soli, incapaci di fidarsi degli altri, vedendo solo l'oscurità in loro. Questo dovrebbe spaventarmi. Dovrebbe. Al prossimo episodio